Il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gesù, 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 Gesù. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Adesso spediamoci, amici e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli obiettori miti colpiosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemenze, o pia, o dolce merce, o marino, Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudisci.